Questo è il primo Natale che passiamo insieme. Dopo anni. Vi voglio bene. Voglio recuperare il tempo perso. Le autorità si chiedono se il giustiziere mascherato e il terrore della criminalità sia tornato. Il mio passato mi ha raggiunto. Dobbiamo preoccuparci. No, no, non è niente. Sarò a casa per Natale. Te lo prometto. Mentre indossavo quel costume, mi creai un mucchio di nemici. Sei occhio di Falco! Tu che diavolo sei? Alcune persone mi definiscono la più grande arcera del mondo. Sei una di quelle persone? Ehi, piccola. Dovrei tornare tra un paio di giorni? Aspetta un attimo. La situazione si è... lievemente complicata. Troppo pericolosa? Questa decisamente no. Non c'è bisogno di dirlo in questo modo. Perca! Ci sono frecce più pericolose di quella? Allora, buon Natale a me.